Musica Benvenuti al TG10, c'è la pagina politica in apertura del telegiornale, vi riferiamo della direzione provinciale del Partito Democratico che si è tenuta ieri a Gela, è stata discussa la vicenda Eni. Il segretario regionale Fausto Raciti sgombra il campo sulla validità dell'elezione del segretario cittadino per Raciti e rimane Peppe Di Cristina. Vertenza Gela sul tavolo della direzione provinciale del Partito Democratico che si è tenuto ieri all'hotel Sileno alla presenza del segretario regionale Fausto Raciti. Proprio a Raciti è stato consegnato un documento che rappresenta la sintesi delle stanze avanzate dal direttivo del partito. E' stata chiesta la celere realizzazione della riconversione industriale definita nel protocollo del 2014 con nuove proposte politiche delle quali il PD cittadino si è fatto promotore per le quali chiede il supporto degli organi politici di partito a livello regionale e nazionale. Stiamo chiedendo con forza l'istituzione di un task force permanente che possa monitorare l'andamento e il rispetto dell'accordo. Crediamo e siamo convinti del fatto che questo accordo verrà rispettato, che la riconversione inizierà e andrà a buon fine. Il nostro impegno e la nostra intenzione fondamentale è quella di tutelare nell'arco di tempo che ci separa dalla conclusione della fase di riconversione, tutelare i lavoratori e i livelli occupazionali dello stabilimento. Nel documento si sottolinea l'opportunità di veicolare il bando di Confindustria Sicilia sui coincidiamenti, il mantenimento di un pacchetto di utilities industriali nel sito per mantenere l'attrattività industriale per nuovi investitori, rilanciare l'idea di uno studio epidemiologico con componenti che diano garanzie di neutralità. Si auspica un piano di bonifiche propedeutico ai coincidiamenti, chiede il PD con forza l'infrastrutturazione viaria e ferroviaria verso l'aeroporto di Comiso ed insiste nel tradurre lo studio di fattibilità del polo logistico GNL, gas naturale liquido, che l'ENI dovrà redigere in proposta di business e rilancia per un accordo di programma condiviso e partecipato. Ai lavoratori che ci ascoltano, che vogliono fatti concreti, il PD cosa dice? Il PD intanto dice che è veramente al loro fianco e non per finta e non per posa, che è nostra intenzione fare in modo che gli ammortizzatori sociali e trovare tutte le strade, sperimentare tutte le strade possibili perché non restino senza ammortizzatori sociali nella fase di riconversione e che stiamo cercando in ogni modo di aiutare l'accelerazione di questa fase di riconversione. Ci sono dei tavoli a Roma che stanno proseguendo e stanno accelerando i percorsi, anche per quello che riguarda le pratiche in sospeso da parte del Ministero e dell'Ambiente. Noi siamo qui per esercitare una continua pressione sull'ENI in particolare e anche sul Governo nazionale che è molto attento alla vicenda della Gela perché questa stagione si chiude il prima possibile e Gela possa ritornare a respirare la serenità che merita. Alla direzione di ieri era presente anche la Larenziana. Per Fausto Raciti esiste un solo segretario cittadino e si chiama Peppe Di Cristina. Tutto il resto sono chiacchiere. C'è un segretario che è stato eletto e è stato eletto regolarmente, salvo che gli organi di garanzia non decidano altro, punto, non c'è molto altro da dire su questo. E oggi alle 17.30 in Corso Vittorio Emanuele 381 a Gela sarà inaugurata la sezione di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale che sarà intitolata a Giorgio Almirante. La pagina della cronaca giudiziaria. Tre arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore dalla Polizia di Gela. I provvedimenti sono stati notificati al 26enne Nisce Mese Alessio Balbi che deve scontare un anno e quattro mesi di detenzione per rapina in concorso. Domiciliari per il 33enne Francesco Greco che dovrà scontare una condanna a quattro mesi per non avere pagato una cauzione. Scatta la detenzione anche per il 26enne Salvatore Ramiolo destinatario di una condanna definitiva ad un anno e sette mesi di reclusione per diversi reati, compreso quello dell'evasione. Ed i carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di Riesi. Si tratta di Luciano Turone, 43 anni. Deve scontare ai domiciliari otto mesi per lesioni personali gravi e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. fatti commessi nel giugno del 2012. E adesso occupiamoci dell'ennesima interessante puntata di Agora andata in onda ieri sera sulla nostra emittente e al cui centro del dibattito c'è stato il pianeta donna della politica gelese. Puntata particolare quella andata in onda ieri sera di Agora si badì bene la solita Agora quella cioè che si occupa di Gela, dei Gelesi e delle tematiche attuali che interessano la nostra città con la vertenza Gela in primissimo piano ad esempio ma stavolta con uno sguardo particolare ossia quello dell'altra metà del cielo della politica gelese ovvero quello di chi la politica la fa continuando contemporaneamente a fare la mamma, la casalinga, la moglie e la professionista la donna insomma al centro del rotocalco settimanale di Canale 10 donne impegnate a dare un contributo alla soluzione dei tanti problemi creati dagli uomini, dai maschi che in politica hanno fatto tanti di quei guasti in questi ultimi 25 anni che a ripararli chissà quanto tempo ci vorrà e allora laddove in questa martoriata città ha fallito quello che una volta veniva definito il sesso forte che ha svenduto al miglior offerente Gela facendone sfregiare in maniera forse irreparabile il suo naturale volto bello magari perché non far provare a loro, alle donne appunto, a trovare i giusti rimedi ieri sera così il salotto televisivo di Agorà che solitamente affollato di presenze maschili è stato ingentilito dalla partecipazione di quattro donne impegnate in politica chi come assessore nel caso di Licia Abela responsabile del settore pubblica istruzione e servizi sociali del comune di Gela e chi invece come consigliere comunale ed in questo caso sono state ospiti di Agorà Sandra Bennici in rappresentanza del polo civico Francesca Caruso di Reset 4.0 e Sara Bonura del movimento Il Megafono a completare la rosa degli ospiti della puntata di Agorà andate non da ieri sera anche il vice sindaco Simone Siciliano che ha aggiornato i telespettatori di Agorà sull'importante incontro avvenuto al Mise di Roma appena il giorno precedente e che è stato propedeutico del più importante tavolo di trattativa in programma mercoledì prossimo sempre nella capitale romana e nel corso del quale molto probabilmente si definiranno le linee guida del futuro economico e sociale di Gela ed infine è presente anche l'assessore al bilancio e affari legali Fabrizio Morello chi volesse rivedere questa elegante oltre che interessante puntata di Agorà potrà farlo grazie alla replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo facebook di Canale 10 Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata per parlare come sempre di Gela e dei Gelesi Il 27 febbraio prossimo alle 11 l'associazione di promozione sociale Ship Lab di Gela presenterà ad una rete di possibili partner un progetto, una competizione di idee che mira ad incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio la presentazione si darà presso Palazzo Mattina in Corso Vittorio Emanuele 411 durante l'incontro saranno approfondite alcune tematiche riguardanti l'innovazione ed i benefici di sviluppo territoriale oltre ad una panoramica sui vantaggi fiscali derivanti dall'investimento su imprese innovative e start-up ancora la competition prima nel suo genere ad essere organizzata nel territorio gelese è prevista per il prossimo aprile e si inserisce in un contesto storico economico che oggi ha urgente ed assoluta necessità di riscoprire nuove attitudini è prevista per questa sera alle 21 nei locali dell'Arcile Nuvole di via Maurizio Ascoli 30 a Gela la performance di suoni ed immagini dal titolo lavoro, sì ma con lentezza saranno presenti Daniela Cretesi, Andrea Turco e Salvatore Zafarana è stato presentato ieri nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela il libro di Gaetano Tabbì, il Francesco, il coraggio della scelta è intervenuto tra gli altri il vescovo della diocesi di Piazza Merina Monsignor Rosario Gisana il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla piccola casa della misericordia Gaetano Tabbì con questo libro Francesco, il coraggio della scelta, che libro è, qual è il messaggio? il messaggio è proprio questo effettivamente l'esempio dovremmo seguire l'esempio che Francesco come Francesco sta attento a tutto il mondo ecco perché il coraggio della scelta il coraggio della scelta e questo ha seguito dopo centinaia di anni l'esempio di Francesco che nessuno dei papi ha mai seguito e sta cercando di portarlo appieno seguendo effettivamente sia le orme di Francesco e a maggior ragione le orme di Gesù è un libro che affascina più che un'asilloge poetica è una prosa descrittiva che Gaetano Tabbì fa per raccontare il pontefice dalla missione pastorale agli incontri con la gente è un papa che affascina Francesco e Gaetano Tabbì lo racconta con semplicità un'opera che custodisce dei sentimenti teneri che l'autore vuole esprimere con ricchezza di particolari con dovizia descrittiva ma non tralascia quella semplicità che è comune caratteristica con Papa Francesco Eccellenza lei ormai è un amico di questa città viene a trovarci anche in questa occasione in cui si inaugura una mostra e si presenta un libro con quali sentimenti? I sentimenti di un cittadino cioè di una persona che chiaramente ha a cuore ogni singolo cittadino perché possa trovare anzitutto la propria serenità interiore perché questo in fondo è il mio compito che davvero la mia presenza rassicuri le persone certamente nel loro cammino di fede ma anche in quella condizione di umanità e se la mia presenza possa essere utile perché la gente si senta amata amata certo dal Signore ma amata attraverso le persone certamente io voglio far capire a tutti il mio affetto e la mia amicizia e sempre nei locali dell'istituto comprensivo Salvatore Quasimodo ieri è stata inaugurata una mostra dedicata al premio Nobel Fabiola Polara ne ha parlato con il dirigente scolastico Maurizio Tedesco Preside si inaugura questa mostra dedicata naturalmente a Salvatore Quasimodo di padre in figlio sì la mostra dedicata a Salvatore Quasimodo non poteva che inaugurarsi nell'istituto comprensivo appunto che è intitolato al grande Salvatore Quasimodo e di padre in figlio perché perché è proprio grazie al contatto che è stato trovato dagli amici del centro di spiritualità cristiana Salvatore Zuppardo con il figlio Alessandro che è stato possibile reperire alcune fotografie che poi fanno parte di questa mostra quindi il motivo per cui insomma la figura di Alessandro Quasimodo è importante è questo ma credo che l'iniziativa è importante in sé perché è opportuno che nella nostra città si dia risalto finalmente a questo grandissimo poeta che è stato insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1959 e che probabilmente è stato forse un po' dimenticato e comunque non diciamo messo adeguatamente risalto come tanti altri letterati italiani e quindi sarebbe opportuno sia che la città di Gela che i politici si spendessero anche per riconoscere questo suo ruolo importante anche perché ha vissuto nell'infanzia a Gela il papà era capo stazione e ha frequentato le scuole elementari la prima elementare a Gela nel 1908 quindi c'è proprio anche un pezzo di storia della sua storia personale che è legata alla nostra città oltre che come c'è una nota lirica dedicata anche alla nostra città per cui credo che questa iniziativa sia importante e speriamo sia diciamo anche faccia parte di una serie di iniziative che insieme al Centro di Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo organizzeremo nel futuro una delle prime cose che bisognerebbe insegnare ai bambini è fare scoprire il personaggio a cui è dedicato alla scuola credo lei ha perfettamente ragione peraltro ho avuto un'idea che non voglio rivelare perché vorrei che fosse una sorpresa quando mi sono insinato qua come dirigente poi per una serie di motivi preso dal lavoro non ho avuto modo di farlo però bisogna dare sempre maggiore risalto credo a questo personaggio così importante per la nostra scuola proprio perché a lui è intitolata è intitolata a scuola quindi mi pare la sua osservazione assolutamente corretta e pertinente è in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro dopo la fontana all'ingresso est di Gela e i due campetti di calcio a Macchitella arriva la mostra della nave greca al museo è l'ultimo regalo del Leni alla città che invece aspetta le bonifiche per queste sembra dire Leni vedremo e questo persa poco il titolo amaramente ironico con cui il giornale apre la prima pagina il servizio è di Filippo Guzzardi Giulio Cordaro invece nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto ironizza sul raddoppio della politica che aggela a due partiti democratici e due movimenti 5 stelle a fronte di una città che si spopola a causa della disoccupazione e dell'incertezza sul futuro in prima pagina anche un servizio sulla diffida che i sindaci e i comitati hanno inviato ai vertici dell'Ars e del governo regionale vogliono la definizione dell'iter legislativo sulla riforma dell'ex province nelle pagine interne il resoconto di Nello Lombardo sull'ultima seduta consigliare e un'intervista tra ex sindacalisti sulla vertenza gela Lucrezia Ferro incontra la cantante Anna Salsetta di ritorno dalla sua esperienza sanremese e monegasca Franco Lauria infine chiude la sua rilettura del Corano Nello sport i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio di eccellenza e di promozione ed in ultima come di consueto la pagina dei piccoli annunci economici ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale una bella notizia è nata Nilde figlia dell'editore Gatano Toscone e di Alessandra Ascia presidente del consiglio comunale di Gela mamma e bimba godono di ottima salute alla piccola ed ai loro genitori le congratulazioni da parte di tutti noi ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità eccoci seconda parte del telegiornale dalla 25 febbraio al 17 marzo prossimi si trarà Gela presso i locali della chiesetta San Biagio e presso la Pinacoteca al Palazzo di Città il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldia dal titolo la sostenibilità nel paesaggio agricolo del Golfo di Gela il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico affrontando temi concreti per la gestione progettazione e conduzione degli impianti sericoli e la promozione di una agricoltura sostenibile interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania ed esperti del settore Don Vitale c'è un appuntamento importante una o due giorni che interessa Gela con il BP Day in ricordo di Baden Powell oggi e domani numerosi scout si incontreranno una esperienza possiamo già definire la formativa finalmente siamo riusciti ad organizzare una giornata del pensiero per ricordare Baden Powell e anche sua moglie perché sono andati tutti o due il 22 febbraio a distanza di 37 anni però e praticamente tutte le associazioni di Gela scout abbiamo organizzato con inviti ad altri gruppi del circondario oltre e ci saranno in città circa 800 ragazzi che da questa sera sciameranno per la città per portare a termine delle imprese delle interviste delle conoscenze della nostra città luogo di ritrovo agli scout Fabio Rampulla sì il centro scout Fabio Rampulla che è il luogo più esteso che abbiamo a Gela ospiterà questa manifestazione diciamo come base di partenza dei ragazzi che poi gireranno per tutta la città e avranno dei luoghi di incontro in diversi punti della città perché bisogna avvicinarsi all'oscautismo ma vede l'oscautismo non è altro che un'esigenza della banda che i ragazzi formano spontaneamente se sono fuori e noi gli diamo la possibilità di organizzarsi la banda in senso positivo e quindi i ragazzi otto ragazzi formano una pattuglia una banda dove ognuno ha un gomito dove ognuno deve portare a termine il suo ingarico il suo posto d'azione e mentre si gioca con questo i ragazzi imparano imparano tutto quello che c'è da imparare per la vita i ragazzi che frequentano gli scout a Gela hanno un futuro in città con la faccenda con la faccenda della mancanza del lavoro dei trasferimenti Eni e tutto quello che gira attorno sono partiti già dieci capi scout della nostra sezione che non riescono più a lavorare a Gela quindi sono dovuti partire e che hanno lasciato le unità un po' sconsolate perché se continuiamo così si arriva al punto di dover chiudere perché se non abbiamo gli adulti che conducono i ragazzi si deve chiudere quindi facciamo anche un appello a questo a chi è interessato a risolvere il problema l'attrice romana Claudia Coll racconterà l'incontro con la misericordia di Dio che ha cambiato radicalmente la sua esistenza la testimonianza sarà resa domani al termine della celebrazione eucaristica delle 18 e 30 preseduta da don Lino di Dio nella chiesa parocchiale di San Giacomo Maggiore di Gela nell'itinerario mensile che il vicariato gelese assieme al Movimento Fraternità Apostolica della Divina Misericordia ha preparato sulle opere di misericordia proseguono le iniziative della Fidas Adas di Gela oggi alle 20 e 15 presso la sede del Movimento Giovanile San Francesco in Piazza Padre Pio si darà l'incontro con i formatori della comunità educante i giovani universitari del gruppo contemplativa la dirigenza e la squadra femminile dell'associazione sportiva dilettantistica San Francesco Calcio si tratta del primo di una serie di incontri medico-emozionali per illustrare con l'ausilio di slide e materiale vario cosa è la donazione del sangue e qual è il significato profondo di un gesto così altruistico e ora parliamo di calcio appuntamento con la vittoria da non perdere per il Gela domani al Presti c'è il derby col Musso Meli ed il calendario prevede anche lo scontro al vertice tra Dattilo Noir e San Cataldese tutti allo stadio l'appello lanciato dai tifosi del Gela attraverso i social network ha una rilevanza importante diremmo importantissima sì perché domani al Vincenzo Presti la squadra dal tecnico Totò Bruculeri ha un'occasione enorme per dire la propria in vetta alla classifica il calendario infatti propone lo scontro al vertice tra Dattilo Noir e San Cataldese le altre due squadre che assieme ai Biancazzurri comandano il girone A del torneo di eccellenza e il Gela riceverà la visita del Musso Meli dunque domani pomeriggio potrebbe cambiare lo scenario perché una vittoria dei Gelesi ed una conseguente sconfitta di una delle altre due contendenti porterebbe in cima alla gradutoria solo due delle tre se addirittura tra Dattilo Noir e San Cataldese uscisse fuori un pareggio e il Gela così come ci si augura vincesse sarebbe il team tanto caro al presidente Angelo Tuccio a comandare portandosi a più due una giornata di campionato dunque da vivere fino in fondo e in attesa del pronunciamento della Lega Sicula che sta indagando sui gravi episodi che si sono verificati sabato scorso a Mondello in occasione della partita con la Parmonval il cui risultato di 1-1 non è stato omologato la società del Gela come si ricorderà ha presentato ricorso contestando su due fronti il risponso della gara che si è disputata sul campo Franco Lomonaco all'arrivo della comitiva giolese nei pressi dello stadio della cittadina della litorale palermitano il pullman sul quale viaggiova il Gela Calcio è stato fatto fermare e secondo il racconto degli stessi testimoni biancazzurri alcuni individui con indosso la casacca della Parmonval uno dei quali armato addirittura di tirapugni hanno aggredito fisicamente i componenti della comitiva giolese una simile accoglienza secondo quanto riportato nel reclamo presentato dal Gela avrebbe provocato in alcuni elementi dell'organico biancazzurro soprattutto i più giovani ed inesperti dei contraccolpi psicologici di non poco conto rispetto al loro normale rendimento in campo e poi cosa di non secondaria importanza nel parapiglia che si è scatenato durante la colluttazione è sparita la varigetta contenente i documenti dei tesserati biancazzurri quando è stata riconsegnata mancava dei tesserini federali di tre giocatori Floridi Aglianizzotto e Pellegrino i quali sono stati costretti a non scendere in campo e a doversi accomodare per tutta la durata della partita in tribuna tornando alla gara di domani fischio di inizio previsto alle 15 l'arbitro disegnato è Ferdinando Emano il Toro della sezione di Catania assistenti sono Giuseppe Cirmigliaro ed Antone Macca della sezione di Ragusa e nel campionato di promozione è partita semplice almeno sulla carta per l'Atletico Gela i gelorossi del tecnico Peppe Misiti domani pomeriggio se la vedranno sul campo del fanarino di coda polisportiva Palma obiettivo dei gelesi è quello di consolidare il terzo posto in classifica continuano gli appuntamenti in occasione dell'82esima stagione concertistica gelese domani alle 19 al Palazzo Pignatelli concerto lirico del trio Angela Curiale e soprano Fabrizio Capizzi Violino e Giovanni a Raddino Pianoforte l'iniziativa porta alla firma dell'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra sono due i film in programmazione al cine teatro antidoto di Macchia della Gela alle 17.30 sarà proiettato Franny con Richard Gere e alle 19.30 e alle 21.30 Joy abbiamo concluso con l'informazione cinematografica l'informazione di oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Ciao a tutti Grazie a tutti